La gastronomia siciliana deve moltissimo alla cultura araba. Le preparazioni ai prodotti che giunsero sull'isola o che ne diventarono un simbolo a partire dall'827, quando viene fatta iniziare la dominazione islamica, sono talmente tanti che se ci mettessimo a elencarli tutti potremmo passare qui diversi minuti. Tra i più noti però ci sono sicuramente la granita e la mandorla. Iniziamo dalla granita. Quella che oggi conosciamo con questo nome è un'evoluzione dello sherbet, una bibita base di succo di frutta, petali di rosa e zucchero tradizionalmente servita molto fredda e ancora oggi diffusa in diverse nazioni, dal Medio Oriente al Pakistan. Giunti in Sicilia i conquistatori arabi trovarono una terra fertilissima e dove era piuttosto facile, soprattutto alle pendici dell'Etna, rifornirsi di neve e di ghiaccio. Si sviluppò così la pratica di grattare la superficie dei blocchi di ghiaccio portati in pianura dalla montagna, come il vulcano viene chiamato da chi vi abita, con un misto di rispetto e timore e di utilizzarla come base da a, diciamo così, condire con sciroppi di frutta. Questa restò la pratica comunemente diffusa fino al Cinquecento, quando venne inventata una nuova tecnica per la preparazione della granita che si fondava su una sorprendente scoperta. Se si mescolano ghiaccio o neve con il sale, prodotto che in Sicilia certamente non manca, la temperatura di questo mix scende e diventa anche molto più bassa degli zero gradi che il ghiaccio avrebbe in purezza. È il principio che sfruttiamo in inverno quando spargiamo il sale sulle strade. Ecco, con lo stesso criterio nel Cinquecento venne inventata la prima forma di macchina del gelato, una botte in legno da riempire con una miscela di due parti di ghiaccio e una parte di sale, così da arrivare a temperature prossime almeno 20, al centro della quale era posta una di zinco munita al suo interno di palette rotanti in grado di raschiare le pareti. Dentro la bacinella i gelatai del tempo mettevano la miscela di acqua e succo di frutta e poi iniziavano a far girare le palette. Dopo qualche istante il liquido che finiva a contatto con le pareti ghiacciava, ma veniva prontemente rimosso dalle pale che lo rimettevano in miscela. Così facendo però ad abbassarsi era anche la temperatura di quest'ultima, che in pochi minuti si trasformava in una cremosa ed evanescente granita. E se vi trovate in Sicilia, soprattutto nella bellissima cittadina di Noto, capitale del barocco siciliano, la granita non può che essere a base di mandorla, servita a colazione insieme alla classica brioche con il tupo. I mandorli erano giunti in Sicilia con i fenici intorno all'VIII secolo a.C. Furono però gli arabi a cogliere tutte le potenzialità di questo frutto e a iniziare a lavorarlo, in particolare con albume e miele, dando vita alla moltitudine di dolci che la pasticceria siciliana può annoverare. Pensate alla pasta reale, quella sorta di marzapane che a differenza del parentemite l'europeo è lavorata a freddo, che fa da contorno alla cassata o alla frutta martorana, agli amaretti, al torrone o al latte di mandorla, ottenuto quest'ultimo semplicemente frullando con acqua. E poi filtrando in un lino i frutti del mandorlo sbucciati. E proprio dal latte di mandorla si parte per ottenere la delicatissima granita. Ma prima di scoprire la ricetta, ancora due parole sulle mandorle. A noto e nei paesi limitrofi, infatti, si trovano alcune varietà uniche per profumo e finezza del gusto. Si tratta della romana, che ha seme di forma tozza e irregolare ed è una delle più utilizzate in pasticceria. Della pizzuta d'avola, con seme ovale e piatto e spesso al centro dei confetti. E del fascionello, che ha caratteristiche a metà fra le altre due. Ok, ora che della mandorla e della granita a livello teorico sapete tutto, mettiamoci, anzi, mettetevi all'opera. Iniziate frullando in un mixer 125 grammi di mandorle pelate, mezzo etto di zucchero semolato e mezzo litro di acqua. Quando avrete ottenuto un composto liscissimo, dedicatevi alla macchina del gelato. Prendete due bacinelle, una più grande, dove metterete 767 grammi di ghiaccio e 233 di sale e mischiate. Una più piccola, che appoggerete sul ghiaccio e dove metterete il latte di mandorla. Iniziate a mescolare con una frusta, raschiando continuamente le pareti. In una decina di minuti la vostra granita sarà pronta. Grazie.